papà cosa regaliamo alla mamma per il suo compleanno quest'anno mi piacerebbe che fossi tu a sceglierlo per me la mamma è la persona più preziosa che c'è al mondo e come minimo merita un gioiello ma servono tanti soldi vero papà è una buona idea e il gioiello più bello che le possiamo regalare ce l'hai tu di fronte a te hai ragione papà cosa c'è di più prezioso di un fiore che ho appena piantato e sì le piante non parlano ma vogliono sempre dire tante cose venite ad ascoltarle e troverete quanto di più prezioso possiate immaginare ci trovate in via puccini 42 a pianenza